Il Movimento 5 Stelle per bocca del capogruppo in consiglio regionale Sara Marcozzi e della consigliera Barbara Stella muove delle critiche alla gestione della campagna vaccinale da parte della ASL di Lanciano Chieti-Vasto con la richiesta di rimozione per il direttore generale Shell a causa delle file all'esterno del Palasport dell'Università d'Annunzio di Chieti per gli utenti che devono vaccinarsi. Beh purtroppo questa fila delle vaccinazioni non è un evento isolato perché già a cominciare dall'anno scorso dalle lunghe attese per i tamponi sia per l'effettuazione del tampone che per il risultato del tampone queste file, la PETAC penso a Chieti che non viene acquistata, a Guardia Grele anche ci hanno segnalato delle stranezze diciamo così sulle modalità di chiamata delle persone da vaccinare, questa è l'ennesima conferma che evidentemente la direzione della ASL non è adeguata a dirigere una ASL. Ho avuto modo di visionare queste file, visionare due giorni fa le file nella sede centrale diciamo così di Chieti dell'ex ospedale, stessi problemi, non c'è una numerazione per entrare, le persone restano accalcate ad aspettare come dire all'interno di locali chiusi e poco areati e sono stata, ho avuto l'opportunità anche di accompagnare mia nonna novantenne a Pescara a fare il vaccino. Siccome l'ho accompagnata io ho fatto tutto il percorso interno dal momento in cui siamo scese dall'auto al momento in cui siamo risalite sull'auto compresa l'attesa di 15 minuti per l'eventuale reazione al vaccino noi abbiamo aspettato, abbiamo impiegato 45 minuti. Dipende da chi organizza purtroppo e a Chieti è organizzato male, a Pescara ho visto che è stato organizzato bene per cui la campagna di vaccinazione tutto sommato con gli strumenti tanto criticati del Ministero funziona quando chi la deve attuare lo sa fare. Sono giorni che ci pervengono queste segnalazioni, ieri la situazione era ancora di nuovo insostenibile sono venuta di persona a controllare e c'erano cittadini veramente esasperati. Ho denunciato la situazione, ho anche detto che bisognava trovare una soluzione, presento anche un'interrogazione per capire dove ci sono stati i problemi, ci sarebbero altre strutture, il Comune le ha messe a disposizione ha dato tutta la sua disponibilità, io credo che il Direttore Generale Shell debba collaborare. Avete chiesto un'interlocuzione con il Direttore Generale? Noi diciamo che sono mesi che abbiamo chiesto di parlare e di incontrare il Direttore Shell, a me il Direttore Shell non risponde neanche agli accessi agli atti, ho dovuto depositare degli esposti in procura.